Formazione e servizi per le aziende, due concetti che vanno di pari passo. In questo caso parliamo del settore alimentare, agroalimentare o ortofrutticolo. Sei un imprenditore di questi settori? Time Vision offre le competenze necessarie per i tuoi dipendenti attraverso percorsi abilitanti di aggiornamento professionale e di upskilling. In questo modo si andrà a migliorare il know-how complessivo delle aziende. Time Vision è accreditata in Regione Campania a fornire consulenza legata all'avviso formazione in agricoltura nell'ambito del piano strategico della politica agricola comune 2023-2027. Esperienza e competenza, approccio pratico, certificazioni riconosciute, supporto continuo, Questi i capisaldi dei piani formativi. Un'azienda competitiva va di pari passo con la formazione dei propri dipendenti. Contattaci o visita il nostro sito per scoprire la natura dei piani formativi.